bello a tutti ragazzi e buoni in questo nuovo video oggi siamo tornati su crash real su un nuovo chest opening insieme a voi ora allora eccoci qua iniziamo il chess opening ora canale a rotelle goblin c'è il bortaniero bocciatore cura barile d'osso ragazzi leggendaria per voi leggi ora andremo ad aprire il baule della missione ora barile rossa marchiglia golem barbari scelti macchina volantes perché altra leggendaria per voi massimo per voi apriamo questo baule facciamo ci sciocchiamo pure non lo so ah e comunque vi consiglio di no vi consiglio cioè io vi consiglio la se volete entrare ah no cazzo sono un tricolato su 50 cazzo boh chiediamo intanto salvatete il baule salvatete il baule salvatete il baule allora ce l'apriamo ce l'apriamo ce l'apriamo ce l'apriamo 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 13 14 12 14 15 21 uom 21 21 14 15 15 Sto buttando, c'è la bella scarichetta che le... Stiamo... Oh, cazzo, ho sbagliato a me. Vai, una torre è andata. Eh, volevi! Ma porca puttata. Oggi se si deve inquinitano i livelli bilanciati. Ma porca puttata. Volevi! Eh, volevi! 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 Ma perché? Non ha senso. Vabbè. Ehm... Ehm... Ok. Ok. Dai, facciamone il corone, porca puttana. Facciamone adesso. Ti ho detto di farlo. No, no, no. Tipo... Vi lascio. Perché devo finire da guardare un episodio di Dragon Ball. Hai un'aura potentissima. Allora. Benissimo. Ragazzi, se volete iscrivetevi, puliremo un altro secondo mio canale. Però non porto videogame. Ho caricato un video. Ehm... Cioè, una settimana scorsa l'ho caricato. Ehm... Poi faccio un po' di... Anche se non sono molto esperto. Ehm... Lo cercherò di portarvi anche... Lassopra. Là lo faccio solo a tempo libero. Qua non c'è niente da fare. Non mi si chieda di registrare. Qua sopra. Ehm... Niente. Go... No. Ma che sto scarso di qua con il Golem a livello 3. Non tutti presenti con il Golem a livello 3. Anzi. Danna mi ha fatto di danni. Stanno facendo hit importanti. Hit importantissime per il nostro premio. Ehm... Ehm... Niente. Lasciate il bandone. Cosa che ho fatto con la... Ehm... 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 In pratica. Scusate per la... Per gli spazi. Per... Ehm... Gli spezzoni che vi ho fatto. Per tanto che... Ehm... 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 Mi è arrivata la notifica con lo spazio in su fila grande. E quindi... Ehm... 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 Io vi saluto. Ehm... Noi ci vediamo al prossimo video. Ehm... Lasciate il like e iscriviti. Bye bye.